Era il 18 luglio dell'anno scorso quando il giovane Adama perse la vita negando nel torrente archiano in Casentino. A distanza di quasi un anno in sua memoria, l'associazione Taoma, che lo ospitava come migrante, ha aperto la casa di Adama, un appartamento realizzato, dicono dall'associazione, in memoria appunto del giovane migrante, realizzato per tamponare le emergenze che potrebbero verificarsi all'indomani della legge Salvini, la cui prima e più grave, dicono dall'associazione, conseguenza è la preclusione al sistema di seconda accoglienza, lo SPRAR, per i migranti a cui è stata riconosciuta la protezione umanitaria. I problemi creati dalla legge Salvini, commenta Melina Paluani, presidente dell'associazione, sono tanti. La nostra associazione si è posta subito il problema di quegli ospiti oggi impegnati in attività lavorative quali tirocini formativi o servizio civile. Si tratta di attività che per loro natura devono essere svolte nel luogo di residenza. Fino a pochi mesi fa questi ragazzi avrebbero avuto diritto ad una seconda accoglienza. Adesso, senza un luogo in cui andare, sarebbero stati destinati a perdere tutto il percorso fino ad ora intrapreso. La casa di Adama, che ha all'attivo sei posti letto, ha già un ospite.